Mi chiamo Alessandro Guerzoni, sono pescarese, abruzzese, amo la mia terra. Per questa ragione abbiamo deciso di organizzare dei concerti nella nostra regione. In questo caso la Sinfonica Abruzzese ci ha ingaggiato per fare questi concerti in alcuni teatri abruzzesi. Iniziamo il 22 dicembre ad Atri, il 23 all'Aquila, il 27 al Flaiano di Pescara, il 28 a Teramo e il 2 a Lanciano. Io ho iniziato il canto, avevo 15 anni all'Accademia Pescherese e poi ho proseguito al Conservatorio di Torino diplomandomi a 24 anni. Fondamentale è stata la conoscenza e l'incontro in un concorso che era l'allora Pavarotti International con il grande Luciano Pavarotti che mi ha scelto e mi ha fatto seguire dalla sua agenzia e da lì è nata questa carriera. Durante la mia carriera, durante una produzione a Colonia nel Don Giovanni ho conosciuto mia moglie Martina Serafin 15 anni fa e da allora non ci siamo più lasciati. Abbiamo una splendida figlia che frequenta le scuole qui a Pescara e per questo abbiamo deciso anche ogni anno di cantare, organizzare dei concerti nella nostra regione. Durante il mio percorso artistico ho conosciuto il mio marito, un bravissimo cantante, un basso pescarese, Alessandro Guerzoni con cui sono sposata felicemente da 13 anni. Ci siamo conosciuti a Colonia in Germania cantando insieme e questo è stato 15 anni fa e siamo felicemente sposati con una magnifica figlia. Vi aspettiamo per le nostre cinque serate concerti in Abruzzo. Grazie a tutti.